Dal caffè sospeso al giocattolo sospeso, l'iniziativa solidale nata a Napoli e conosciuta in tutta Italia, arriva anche a Campobasso. E se nella città partinopea ai bisognosi si lascia un caffè pagato al bar, appunto sospeso, nel capoluogo molisano ad essere sospeso sarà un regalo. Basterà acquistare il dono in una delle attività e lasciarlo al titolare, che scriverà sullo scontrino il nome dell'acquirente. In maniera periodica il Comune provvederà a ritirare i cosiddetti doni sospesi, che saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà, secondo le indicazioni del settore politiche sociali. La pandemia in quasi due anni ha contribuito ulteriormente a creare situazioni di disagio economico. Molto spesso i primi a risentirne, soprattutto nei periodi di festa, sono i bambini. È per questo che il Comune di Campobasso ha promosso un giocattolo sospeso. L'iniziativa, fortemente evoluta dall'assessorato alle attività produttive e alle politiche sociali, intende far vivere ai più piccoli un momento di gioia attraverso un dono. Che sia un giocattolo o un libro non importa. L'importante è dare il proprio contributo per abbattere le disuguaglianze. Ad oggi, ma le adesioni sono ancora aperte, è possibile acquistare un dono in cinque attività commerciali. Al Nido del Bambino in via Roma, alla Libreria Mondadori in via Pietrunto e alle Edicole in via Cardarelli, via Ferrari e via 24 Maggio. Un contributo che apparentemente può sembrare minimo, può, anche se per un momento, aiutare a vivere spensieratezza a chi non ha la possibilità, facendo trovare ai più piccoli un dono sotto l'albero o nella calza della Befana.